Chiudere, chiudere, chiudere. A questo punto dobbiamo chiudere tutti gli accessi, tutti blindati. È scattata già dalle prime ore di questa mattina in città e provincia la macchina organizzativa delle decine di volontari in prima linea in vista del passaggio, in programma questo pomeriggio, del Giro d'Italia nel Piacentino. Dopo la bellissima mattinata d'inizio maggio, quando il Giro partì da Piazza Cavalli per la tappa Piacenza-Sestola, oggi la Carovana Rosa concede il bis, anche se questa volta si tratterà solo di un transito, al pomeriggio, come detto, nella tappa che porta da Rovereto a Stradella, l'ultima per i velocisti. Secondo il cronoprogramma, il passaggio a Piacenza-Città è atteso tra le 15.30 e le 16.00. L'ingresso dei ciclisti nel nostro territorio avverrà da Monticelli, poi la Carovana Rosa passerà a Caorso, Roncaglia, Piacenza, Rottofreno e infine Castel San Giovanni. Per quanto riguarda il percorso, i ciclisti seguiranno la strada provinciale 10 da Monticelli-Dongina fino a Piacenza. Le vie della città interessate al passaggio saranno via Carosana, via Cremona, via Colombo, via Manzoni, via Conciliazione, via Ledante, via Bianchi, via Pietrocella, via Primo Maggio, via Einaudi e la tangenziale Nord. Le strade interessate saranno chiuse circa due ore e mezza prima del passaggio previsto dei ciclisti. La via Emilia rimane chiusa dalle 12.15 alle 17.00. Sempre oggi, le scuole superiori restano in didattica a distanza, mentre per le materne, elementari e le medie le lezioni si sono concluse alle 12.00. Infine, il passaggio del giro potrebbe comportare la necessità di utilizzare percorsi alternativi per chi si deve recare ai centri vaccinali di Piacenza Expo e di Castel San Giovanni. Tutte le info con le modifiche complete alla viabilità sul sito liberta.it Piacenza Expo Piacenza Expo Piacenza Expo